23 anni di misteri e bugie intorno al destino di Teresa Bottega, scomparsa nel nulla una mattina da casa sua a Spoltore. Si pensò, dopo blande indagini, a un allontanamento spontaneo. Ma una mezza tragica verità è giunta soltanto qualche tempo fa, quando il marito Giulio Cesare Morrone si è presentato in questura a Pescara, confessando l'omicidio e dando comunque alla vicenda una versione non sempre uguale. Quella mattina, al culmine di una lite, avrebbe accidentalmente ucciso Teresa, occultato il corpo e poi trasportato addirittura a Ferrara, dove l'avrebbe abbandonato su Greto di uno fiume. Nel mezzo un giallo nel giallo, una confidenza resa a un sacerdote dieci anni fa, un segreto che il sacerdote avrebbe sempre tenuto per sé. Ma era una confidenza e non una rivelazione sotto il vincolo della confessione. Ora urlano i parenti della vittima, perfino decisi a scrivere a Papa Francesco per chiedere conto di questa ingiustificata omertà. Questa mattina, presso l'Aula 8 della Tribunale di Pescara, la prima udienza corrito e abbreviato. Presente l'imputato Giulio Cesare Morrone e il suo avvocato D'Alicandro. Presenti anche i parenti della vittima difesi dall'avvocato Rodriguez, il fratello Gianni e le due sue sorelle, Lucia e Maria Pia. Quest'ultima si è lasciata andare ad uno sfogo davanti alle telecamere presenti. Una persona che ammazza la propria donna, a sangue freddo va a portare il figlio a scuola, torna a casa, mette in busta in un sacco nero questa persona, lo mette in un cesto dal terzo piano, lo scende questo cesto, lo mette in macchina e prende l'autostrada come se niente fosse. Arriva a Ferrara, butta questo cadavere e ritorna come se niente fosse. Ma voi ci credete? No, io non ci credo. L'udienza di questa mattina è stata aggiornata al prossimo 7 novembre per consentire la trascrizione di alcune intercettazioni che secondo l'avvocato dell'imputato sarebbero incomprensibili.